Presidente Gragnola, il solito appuntamento ormai che fa parte della consuetudine della Fondazione degli Auguri, un momento anche per fare un repilogo dell'attività che è stata svolta in questo intensissimo 2022 che è conciso con il trentennale, ma anche per fare un punto totale e mettere al corrente la città delle attività svolte. Sì, il momento degli auguri è sempre un momento per, oltre che per fare il brindisi, anche per fare un pre-consultivo dell'anno che sta per terminare. Questa è stata l'occasione per incontrare i soci, gli amministratori, i collaboratori e anche tutti i soggetti che collaborano con la Fondazione, che sono tanti, ai quali va chiaramente il nostro grande ringraziamento perché la Fondazione nostra, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, è una piccola fondazione con una struttura molto snella e se non ci fossero tutti questi collaboratori e se non ci fossero tutte queste persone che collaborano con la Fondazione con spirito filantropico e con grande impegno, le tante cose che facciamo non sarebbero possibili.